io cugino riconoscete un abituale nel canale allora siamo salvi 40 punti in testa siamo salvi con la Juve c'ho vinto ora le posso perdere anche tutte allora a me mi gira il cazzo che ho perso con quella Juve lì mi gira il cazzo davvero vedendo questa Juve qui mi gira il cazzo tantissimo sono convinto che se avessimo avuto il titolare ragazzi questa Juve qui la battevamo lo disse in quei tempi e lo vedo guarda non c'è stato gioco non c'è stato gioco una Juve elementare una Juve che se fosse Juventus mi strapparia i capelli ragazzi cioè Cristiano Ronaldo l'ombra di quello che era perché completamente annientato da Conte cioè Pirlo bimbo te sarai esonerato sicuramente perché se questo è quello che tu puoi fare con questa squadra c'era da grosso questo Juve rischia di non andare in Champions ha giocato male l'Inter ha stradominato la partita l'Inter ha fatto un culo così alla Juve non c'è stata partita migliore in campo Matisse ragazzi non so cosa come si può descrivere come si fa Juve inesistente merito anche l'Inter che l'ha preparata bene ma la Juve è scandalosa partita a senso unico cioè la Juve non è scesa in campo pensavo me lo faceva più forte questo Ascoli ragazzi davvero sul serio cioè come abbiamo fatto a perdere con questi qui come abbiamo fatto a perdere con questi qui cioè adesso è ufficiale lo Scudetto solo gioca il Milan e l'Inter tra l'altro sicuramente lo porteremo a casa noi il campionato del derby sì il campionato di Milano perché Juventini Scudetto ve lo sognate quest'anno anzi se io fosse voi punterei al quarto posto meglio perché secondo me in Champions quest'anno non ci andate ci andate